Intanto siamo a un'altra bellissima prova, stiamo parlando dei mille metri con la serie più accreditata, seconda posizione per l'Azzurro Benedetti, terza posizione per Morsec, ricordiamo in gara l'Azzurrino delle Siepi Giuseppe Gerratana, Elia Polli per Virtus Luca, il campione italiano e azzurro Giordano Benedetti, fiamme gialle, atleta con un personale di 1.44, Luca Leone Cuspropatria, Mattia Moretti dei Carabinieri, Merion Crespi che su questa pista ha corso in 3.37.500, poi Giovanni Bellino, pregiato mezzopuntista delle Fiamme Gialle e poi Morsec, milanese-senegalese dell'Atletica Monza e Zoair Zair, mille metri, tutti da vivere, sosteniamoli, la sagoma lunga di Benedetti è già davanti nella sua scia Morsec, il vostro sostegno è importante, quindi urlate, cantate, incitateli, Benedetti in avanti, secche che insegue, il passaggio è il 600, 1.24.77, 1.24.77, sosteniamoli, non fate gli spettatori, fate i tifosi, dai ragazzi forza, Benedetti si volta, Benedetti secche, secche è come la sua ombra, questo atleta che la mattina fa il parista in centro e poi riesce ancora a correre forte gli 800, Benedetti e secche, Benedetti e secche fino alla fine di questi mille, Memorial Grazia, prepariamo un rettilineo tutto di applausi per i protagonisti dei mille metri, Benedetti e secche, Benedetti e da lei con gli applausi, Giordano Benedetti, Morsecche, Benedetti, Benedetti davanti un bravissimo secche, 2.20.67, 2.20.67, il primato italiano di benvenuti è lontano, ma una bella prova tra Giordano e Mor, bravissimi tutti gli atleti che stanno tagliando il traguardo, Giordano Benedetti e Morsecche, secche ci ha provato fino alla fine.